Sono qui con la bella e scrivo ad un modo che non so se mi sentirà mai ma la forza che io ci metto Non ha mai abbassato la testa di fronte agli ostacoli della vita che ha sempre superato attraverso la forza della musica ed oggi Luigi Capupianco diventa testimonial della Maratona Nazionale di Solidarietà 30 ore per la vita, edizione 2017 che ha fatto tappa ad Isola dell'Iri per raccogliere fondi utili a finanziare due progetti di ricerca del Bambino Gesù e della Federazione Italiana Epilessie con l'obiettivo di accelerare la diagnosi dell'epilessia in età infantile e il cantante Ciociaro spalleggiato da tre super ospiti Paolo Vallesi, Aleando Baldi e Sherry Porter ha presentato il suo ultimo brano, Blackout, dedicato proprio all'epilessia Questo concerto l'ho dedicato a tutti i malati che soffrono di pielessia Una serata unica una grande festa all'insegna della solidarietà resa ancora più speciale dalla tenacia di Luigi che trova sostegno alla sua forza dalla sua famiglia dalla sua maestra di canto e dalla sua storica band È un concerto dedicato a raccogliere fondi per 30 ore per la vita che riguarda il suo progetto sull'epilessia Questo è il primo concerto ci saranno una serie di concerti che faremo in tutta Italia e da lì proveremo un po' la musica di Luigi e ci siamo con la sua band Tento la mano E tu ci sei E tu ci sei E tu ci sei E tu ci sei Ciao Ciao Ciao